Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, allora mancano una decina di minuti circa su tutti i campi Facciamo un video, parliamo un pochino di questa giornata di Serie A Prima che poi stasera ci immergeremo, come dice sempre Caressa, come piace dire a Caressa Nelle partite serali, ragazzi il Sassuolo ha appena fatto il 5-0 Registromo perché dubito che ci saranno, sto guardando le partite su diretta, le sto ascoltando dalle Airpods Per quello ho le Airpods e qua sotto c'ho le partite Appena segnato capo del 5-0, dubito ci saranno altre grandissime Esclamazioni, mi sembravano partite molto, molto bloccate E caputo ragazzi fa doppietta, caputo Sto guardando sotto la Lazio si è, si è mangiato ancora il mobile Ragazzi il mobile si è mangiato un gognafa, oggi, oggi il mobile ci ha purato che mani e chi pieti Ma quando non deve entrare, la palla non entra Ma quando non deve entrare, la palla non entrare Tra i mobile non ce la fa a buttare dentro il pallone Ma avete la fine, vedrete in ciafara Pallone, ma avete la fine, vedrete in ciafara Pallone, ma avete la fine, vedrete in ciafara Pallone, ma avete la fine, vedrete in ciafara Comunque al di là di questo, al di là di questo Ehm... che vestavate adesso? Guardando, attenzione, attacca il Brescia Niente Vi stavo dicendo, ragazzi, caputo fa doppietta Segna Berardi, segna Raspadori Il Sassuolo ha preso a pallonate E' un Genoa totalmente in difficoltà Ma totalmente in difficoltà Attenzione! La Padula! La Padula! La Padula! Il Lecce è in vantaggio sull'Udinese, ragazzi miei Il Lecce è in vantaggio sull'Udinese In questo momento... Eh vabbè, ma è giusto così È giusto così Il Genoa ha preso a pallonate sul campo del Sassuolo Ed ecco qua il gol di La Padula, ragazzi Già Luca la Padula fondamentale per questo Lecce Vabbè, non è che fa niente Ha messo il piede Però, regà In questo momento il Lecce non è salvo Ma è ancora in gioco Attenzione perché Ah, si chiama anche Immobile, tra l'altro Anche Immobile ha segnato 30... E allora io proprio Sono proprio un gufo di merda Pallona, ma avete la fine? Vedrete in ciafara Dai, regà, sono proprio un gufo di merda Gol di Immobile Gol di Immobile Gol di Immobile 35 Meno uno del record di Guain Siamo ad un passo così dal dare a un italiano Il record del campione italiano di gol fatti in 38 giornate 38 giornate ovviamente del campionato Vabbè, comunque, correghi Un cioccolino Stavolta Immobile ce l'ha fatta Si ha lotato praticamente Perché ci ha provato 20 volte Alla fine il pallone in qualche modo L'ha buttato dentro Che vi stavo dicendo? Quindi a questo punto cambiano un po' di cose Perché Immobile va meno uno di Guain E sta cosa è parecchio interessante Rigore per la Samp Ma che cazzo sta succedendo? Ha fatto bene a registrare Rigore per la Samp Occhio, fermi tutti Rigore per la Samp Chi è quello? Maroni? Che due Maroni Rigore per la Samp Anche se... Ma oh, qua manca un quarto d'ora Quanto cazzo come dura? Stupido No, dopo 7-8 minuti Raga, chiudiamo e riprendiamo all'ultimo Maroni, tiro La parata di Andanovic Ancora il tiro No, la sbuccia La parata... Dandanovic Donnarumma Volevo dire Sono proprio rincoglio Ormai subito Dovano tirare un rigore Lo parano La parata di Andanovic La parata di Donnarumma Ragazzi Mi ha parato di rigore Donnarumma Fammi vedere rigore Eh? Sai che non c'era rigore? Mi sa Sai mi sa che non c'era rigore? Come tanto gliel'ha parato Donnarumma Ma questo cazzo di Milan Giusto per farmi capire No? Ma che cosa ha deciso? Ma che cosa ha deciso? Mamma mia che pressione Che ci sta mettendo Tanto c'è anche Ibra Segna doppietta Ibra Segna il solito can Ceylanoclu Ormai segna sempre Ceylanoclu è una presenza fissa Ormai Ceylanoclu ogni partita Butta la palla Butta le sue palle in rete Ceylanoclu ragazzi Da quando il Milan post-Covid Ha ripreso a correre È cambiato Ceylanoclu è anche che sì Che sì pure Che sì è un altro Che sì È un altro giocatore Che ragazzi Quando Da quando il Milan Ha iniziato a A correre Da quando il Milan Ha iniziato A trovare la quadra Fammi abbassare un po' il volume Che ci sto a capincazza Aspetta un attimo Ok Quando il Milan Ha trovato Da quando il Milan Ha trovato la quadra Giocatori come Chessy Come Ceylanoclu Tanto c'è Forse proprio la Padula La Padula è uscito Accompagnata Si è fatto male la Padula Non so se fosse la Padula Forse sì Vabbè E il Milan ragazzi Corre Sarà un avversario difficile Parecchio difficile Stasera la Roma Si vince Matematicamente quinta Però secondo me A Torino Non vinciamo Lo spero Con tutto me stesso Ma secondo me A Torino Non vinciamo Questa è proprio L'impressione che c'ho Fatemi vedere Madonna come Gli è entrato male Però ha preso la palla Però gli è entrato malissimo Gli è entrato malissimo Comunque Qua mancano 5 minuti Udinese Lecce Lecce sta vincendo 2 a 1 Ma 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 Ve l'ho detto Facciamo gli ultimi 10 minuti Di queste gare Visto già tutte insieme A me le fa proprio fomentare Quando me le fanno tutte insieme Fammi vedere Palla lì Attenzione Palla dentro Niente Comunque vi dicevo Invece il Milan ha vinto Il Milan ragazzi Gioca bene Segna Ibra doppietta Segna Cialanoglu Credo che a questo punto L'anno prossimo Cialanoglu Vabbè Cialanoglu rimarrà Ibra verrà confermato Tra l'altro qualcuno Mi parlava anche di un Di una sorta di sponsor Di una sorta di maglietta Dell'anno prossimo del Milan In cui c'era questo spoiler Di Ibra Che rimaneva a Milano Non l'ho capito Non l'ho studiata Chiedo scusa Però secondo me Il Milan deve Quanto meno Rinnovare Il Il contratto A Zlatan Ibrahimovic Perché a mio modo di vedere Non farlo Sarebbe una gran Bella cazzata Detto questo Rega io direi una cosa Io adesso Stacco No Vediamo Perché volevo riprendere Gli ultimi 5 minuti Dei partite Perché molte non sono finite Però voglio un attimo Perché c'è un calcio D'angolo per l'Alasio Sia me che adesso Ciro Immobile Segna E mi pareggia Iguain Lo facciamo in diretta Lo facciamo in diretta Aspettate Aspettiamo Vediamo No Non era più calcio Allora ci vediamo Tra 5 minuti Per concludere Bella rega Allora rega Sostanzialmente Che cosa è accaduto È accaduto Che sta per finire Il Milan E il Milan ha fatto Un altro gol Ne ha preso anche uno In realtà Ha segnato Per il Milan Leao Il solito Leao Che buttato a partita In corso Il gol Lo fa sempre Ma per la Sampa Ha segnato Sto tipo Askilzen Che non so Chi minchia sia Però ha segnato Tra l'altro Ha segnato Prima di là Ha fatto il 3-1 E poi Askilzen Ha fatto il 3-1 E poi Leao Ha fatto il 4-1 Altro gol Che se siamo persi Per la diretta È stato il Ce ne siamo persi In altro Mi pare No Ce ne siamo persi No Mi drogo Ah no Uno per parte Se ne siamo persi Per il resto Niente di che Sta finendo il Milan E finito il Lecce Finito il Lecce 1-2 Quindi il Lecce Vince Vittoria importante Vittoria fondamentale Per il Lecce Immobile un altro gol Nulla ha fatto Nulla ha buttata dentro Però un gol Basta Un gol e un assist Tra l'altro di Immobile Perché alla prossima giornata Ragazzi miei La Lazio Affronterà Lo sapete benissimo Non c'è bisogno che io Ve lo dica Il Napoli E potrebbe superare Gonzalo Iguain Proprio nella gara In cui Immobile Affronta Iguain Quindi sarebbe Cioè affronta il Napoli Di Iguain Che non è più di Iguain Quindi sarebbe proprio Una cosa curiosa Gli manca un gol Per prendere Gonzalo Iguain Mi fa ride Io lo dico da romanista Nel senso per me Insomma la Lazio Capite no Non c'è bisogno che vi dica altro Però mi fa ride Che dice Eh ma lui Ho 42 rigori Sì raga Però se i rigori Si battono I rigori si devono battere Ci stanno Quindi Evitiamo di screditare Completamente a caso Un tipo perché batte i rigori È così Semplicemente è così I rigori si battono I rigori ci stanno E se c'è un calcio di rigore È giusto che Venga fischiato È giusto che venga battuto Dal rigorista di turno Detto questo Che è successo qua Si è bloccato tutto Detto questo Eh il Tassolo diceva Vince 5 a 0 Segna ancora Di nuovo Come se non bastassero a Spadori Ma Caputo ragazzi Fa una doppietta Tra l'altro molto curioso Perché Caputo Si era detto Si era detto Caputo Se arriva a 20 gol Andrà a cena fuori Con Del Piero Gli chiederà come si fa A rimanere a così tanti alti livelli Per così tanto tempo E Del Piero Gli aveva risposto Te porta Magna fuori A cena offro io Se arrivi a 20 gol Caputo con questa doppietta Ne fa a 21 Tanto di cappello Per Caputo Che a mio modo di vedere Meriterebbe di chiudere La carriera in una big Meriterebbe la grande Occasione finale Tra l'altro con questa vittoria Il Sassuolo Risponde alla vittoria Del Verona Che sinceramente Non ho visto Perché ho visto La diretta Sky Su D'Asono Non mi sono manco affacciato Ma leggo che Di Carmine Ha fatto due gol Che Faraoni Ha fatto uno Tra l'altro Quest'anno Faraoni Ha segnato tantissimo Vergognoso Secondo me Vedere la Spal Giocare tanto per giocare In questo momento Sinceramente Lo ritengo davvero Davvero vergognoso Che vi devo dire Vedevo dire anche Della Lazio Che è vincito a zero Segna Correa Segna Immobile La Lazio in questo momento È quasi Quasi Ad un passo Ad un tratto Dal secondo posto Perché la prossima giornata È vero che la Lazio Gioca a Napoli Ma Inter e Atalanta Si affrontano Quindi sostanzialmente Da una parte Va a favore della Lazio Il fatto che se pareggiano Le supera tutte e due Dall'altra però Va detto anche Che c'è una buona possibilità Che la Lazio Non arrivi seconda Perché se una delle due vincere La Lazio è matematicamente sotto Comunque è assurdo Che ha 79 Inter 79 Atalanta 78 Atalanta 78 Lazio Sono veramente tutte quante Attaccate Parecchio curiosa Secondo me Come cosa Veramente parecchio curiosa Detto questo Penso che l'avete parlato Più o meno di tutti Giusto un breve Una breve disamina Sulla salvezza Perché il Genoa sta a 36 Lecce sta a 35 Settimana prossima Lecce affronta il Parma Al Via del Mare Il Genoa invece affronta il Verona A Genova Quindi si conclude La lotta a salvezza Proprio all'ultima giornata E' un miracolo Non me l'aspettavo E' stato un miracolo Adesso ci godiamo le altre gare Quindi Fiorentina Bologna Cagliari Juventus E Torino Milan Se vediamo dopo raga Buon salatale Iscrivetevi al canale Perché chi non si attiva il canale Non arriva a Natale Buon salatale Tantissimi piace qui sotto E noi come sempre Ci vediamo al prossimo video Buon salatale